Mister, andiamo ad Arezzo, dobbiamo ovviamente ripartire dalle prestazioni delle ultime gare? Sì, dobbiamo ripartire dalle prestazioni e dobbiamo andare a cercare il massimo risultato possibile. Che partita si aspetta? Difficilissima, come tutte quelle che sono qui in questo campionato. Mi legano ad Arezzo dei ricordi speciali, ma lo sanno anche loro come sono fatto io, quindi cercherò giustamente di raggiungere il bottino pieno, sapendo perfettamente che la squadra ad oggi costruita per i giocatori che ha, per lo staff tecnico che ha, una squadra che potrebbe ad oggi giocarsi i primi posti. Rientrano Morosini e Scarsella, un'iniezione di fiducia ad un gruppo che non ha mai mollato. Quello è vero, questo è vero. Adesso sono due giocatori troppo importanti per noi, abbiamo una situazione di guidetti da verificare. Diciamo che siamo convalescenti e appena saremo di nuovo tutti del top e credo che rivedremo presto la nostra squadra.